ai vigili fuoco e quindi abbiamo dovuto ricostruire per riprogettare l'intero sistema. Allora abbiamo colto l'occasione anche per rivedere la questione formativa sulla quale noi ovviamente puntiamo molto, però riteniamo che il nostro volontariato che è sempre stato molto attento alla formazione, sia arrivato a dei punti di eccellenza, osiamo dire, io stesso ho valutato, ho visto con i miei occhi la partecipazione dei volontari, anche io essendo un volontario mi sono sottoposto a questi corsi sia di protezione civile che di anticine boschi, quindi posso garantire che i volontari hanno una formazione continua e continuata nel tempo e se posso aggiungere stiamo elaborando anche un corso di secondo livello per creare una figura, almeno per quanto riguarda l'anticidio boschivo, che si vada a posizionare tra il DOS barra ROS, quindi direttore o responsabile dell'operazione di spedimento e il capo squadra, in modo che possa in qualche modo sopperire al ritardo dell'arrivo sul teatro dell'operazione da parte dei responsabili dei vigili del fuoco. Questo credo che sia un altro salto culturale e formativo ovviamente da parte del nostro volontariato di cui noi andiamo assolutamente orgogliosi.